Quando si parla di estate e di viaggi verso le agognate vacanze, è importante fare attenzione al volante. Proprio per questo la Polizia Stradale ha lanciato la campagna di sensibilizzazione e partenza in sicurezza. Per far comprendere agli automobilisti l'importanza della manutenzione alla propria autovettura, ha realizzato un simpatico cartone animato con tutti i consigli per partire senza rischiare nulla. Ricordati sempre di controllare la pressione degli pneumatici.